Analizziamo il REPL relativo al socket client e server costruito mediante Python. Siamo partiti in precedenza con l'analisi del server e del client socket Python con Visual Studio Code. Passiamo adesso alla versione su REPL. Allora, intanto abbiamo un file di configurazione, un config.py, in cui abbiamo host e porta. Quindi anche qui in questo caso mettiamo il local host e una porta, per esempio 65.431. Cominciamo con andare ad analizzare prima un ecoserver e un client, che non sono nient'altro che la versione, diciamo, in REPL dei file visti in precedenza, con l'unica differenza che l'abbiamo inserita all'interno di una funzione. Quindi, mentre in precedenza avevamo il nostro server, ad esempio, che non era racchiuso all'interno di una funzione, qui nel nostro REPL abbiamo esattamente un ecoserver, che è la definizione di questa funzione, che contiene fondamentalmente lo stesso codice che abbiamo visto in precedenza. e qui da questa parte invece abbiamo un client che, diciamo, fa le stesse cose che venivano fatte dall'altra parte. Andiamo ad analizzare adesso nel main cosa accade. Allora, intanto nel main abbiamo dovuto introdurre l'utilizzo del threadpool executor, cioè il problema che abbiamo all'interno di REPL è che non possiamo aprire, come abbiamo fatto in precedenza utilizzando Visual Studio Code, due terminali differenti, uno per il server e uno per il client. Quindi sostanzialmente quello che andiamo a fare è utilizzare un threadpool executor, in cui abbiamo i due worker, cioè due processi che vengono fatti partire, uno server e uno client, e verrà fatto esattamente quello che abbiamo fatto da quest'altra parte con Visual Studio Code, solamente che qui verrà fatto tramite l'utilizzo di processi, di thread. Quindi quello che succede è, viene semplicemente richiesto all'utente se partire in modalità eco oppure standard. Ho fatto una piccola variazione qui all'interno del nostro server, in modo tale da poter avere sia un ecoserver, che semplicemente fa un eco di quello che viene inviato da client, oppure un reply server in cui si possono inserire i propri messaggi, lo vedremo successivamente. Quindi indicando uno, quello che succede è che avrà fatto partire un ecoserver, quindi esattamente questo che abbiamo visto qui. Quindi quello che succede è che si genererà appunto un'istanza di questo executor, con al massimo due worker, che sono esattamente quelli di cui abbiamo bisogno. E come facciamo a far partire il tutto? Bene, bisogna sostanzialmente creare quindi un submit di ecoserver, dove ecoserver è questa funzione che noi avevamo definito, eccola qui, all'interno del nostro file. E un submit del client. Viene fatto partire il client due secondi dopo il server, quindi abbiamo importato la libreria time. Dopodiché lo shutdown determina praticamente la fine di tutto, e quindi la chiusura corretta delle socket. Quindi se adesso andiamo ad avviare, possiamo vedere esattamente il funzionamento del nostro applicativo. Quindi partiamo con un ecoserver. A questo punto abbiamo il waiting for connection. Il client si collega dopo due secondi e può mandare un messaggio. Quindi ciao. È stato ricevuto ciao. Possiamo mandare un altro messaggio. Bene. Se battiamo invio, battiamo invio, quindi non viene inviato nulla, e quindi viene chiusa la socket e tutto quanto finisce correttamente. Quindi abbiamo replicato esattamente quello che avevamo fatto dall'altra parte con Visual Studio Code, qui utilizzando appunto dei thread. Quindi avendo, come dire, bypassato il problema del doppio terminale che non si può avviare. Nel caso in cui si volesse avviare un server, un reply server, quindi non un ecoserver, in partenza utilizziamo due per standard. Quindi dopo due secondi si collega il client. Ok. E qui ovviamente scriviamo ciao come messaggio. Il server può rispondere con ciao a te. Quindi il client riceve ciao a te. Il client può mandare ciao server come stai. Il server riceve ciao server come stai. Bene. Client manda invio e quindi chiude tutta quanta la connessione. Quindi siamo stati in grado di gestire questa casistica di comunicazione utilizzando appunto i thread. Quindi siamo stati in grado di gestire questa casistica di comunicazione utilizzando appunto i thread.